Si fa presto a dire che se ne è andato il più bravo di tutti, ed è vero perché Gianni Mura era davvero il più bravo di tutti noi, era il più bravo a scrivere, ma soprattutto era il più bravo a guardare, a guardare il mondo, a guardare la realtà, quindi io direi che se ne sono andati due occhi in più, due occhi nuovi per tutti noi che appunto questa realtà cerchiamo di capirla, di interpretarla non solo per mestiere, ma così, per semplice stare al mondo. Gianni Mura aveva una visione etica del mondo, dello stare al mondo, i suoi giudizi erano sempre mirati al meglio, a cercare il meglio nelle cose, nelle persone, negli altri, e anche a sottolineare il peggio con severità, in maniera burbera ma sempre buona, sempre piena di affetto. Ci sentiamo soli in questi giorni terribili di reclusione, ci sentiamo soli anche perché Gianni era un modo per confrontare i nostri pensieri sulle cose e per raggiungerne di nuovi. Era bello leggere un suo pezzo e dire è vero, accidenti, è proprio così, ma era bello anche dire però caspita, a questa cosa non avevo pensato, perché questo fanno i grandi commentatori, i grandi giornalisti, ti aprono universi. Gianni è stato bellissimo da leggere e ancora più bello da frequentare per chi ne ha avuto questa fortuna, come noi i suoi colleghi. Sono indimenticabili, i giorni, le ore, le sere, i pranzi, le cene, le trasferte, trascorsi al suo fianco. Questa è una lezione di vita che per tutti noi non finirà mai e che ci lascia in questo momento vuoti, direi attoniti, soli. Sapevamo che non stava bene ma non immaginavamo che potesse precipitare la sua situazione in maniera così perentoria. Siamo diversi ma siamo anche in qualche modo impegnati, non dico continuare il suo lavoro perché è impossibile, ma cercare di guardare il mondo un pochino come lo avrebbe guardato lui, chiedendo ai nostri occhi, gli occhi di Gianni adesso, questa cosa, come l'avrebbero guardata.